Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi faremo un altro esercizio su Assembly. Come potete vedere qui in alto abbiamo un codice in un linguaggio ad alto livello e dovremo trasformarlo in un linguaggio a basso livello come Assembly. Quindi iniziamo subito. Come prima cosa da fare sarebbe quello di inizializzare queste variabili qua. Quindi iniziamo a mettere global start, così dichiariamo il nostro main. Mettiamo punto text e iniziamo con l'esercizio. Allora iniziamo a dichiarare e inizializzare queste variabili. Quindi iniziamo a fare per esempio li di t0 e lo mettiamo come valore mettiamo 8. li t1 come valore mettiamo 1. li t2 come valore mettiamo 0. li t3 come valore mettiamo 1. Dopo abbiamo un ciclo while da gestire. Un ciclo while non sarà nient'altro che un branch con una condizione. Branch che possiamo usare potrebbe essere anche branch if equal dove se n raggiunge uguale a 0 di conseguenza usciamo dal ciclo. Quindi se facciamo branch equal 0 con t0 se questa condizione risulta vera usciamo facciamo end però se non risulta finito se non risulta vera questa condizione quindi falsa andremo a fare questo codice qua cioè r uguale a a più b possiamo fare add di r quindi r t1 quindi facciamo add t1 con a più b abbiamo detto che è t2, t3 e b quindi facciamo t2, t3. Dopo aver fatto questo possiamo fare un add di con a uguale a b quindi facciamo che a che è uguale a t2 e inseriamo all'interno di a mettiamo b quindi t3, 0. Poi facciamo la stessa identica cosa anche con b quindi b abbiamo detto che è t3 ci mettiamo r che è t1, 0. E come ultimo procedimento possiamo fare dato che n è t0 facciamo t0 con t0, meno 1. Però ci manca anche il jump che ci permette di risaltare come se fosse un while insomma. Qua magari lo chiamiamo ciclo e qua in alto mettiamo ciclo due punti così ogni volta lui risalta se la condizione non risulta vera. Dopo salta in end quindi qua possiamo fare un metodo per uscire quindi facciamo add di x17 con xx0, 10 come valore e call. Ok, teoricamente questo dovrebbe essere l'esercizio fatto corretto e vediamo se funziona effettivamente il programma quindi qua viene a passare i vari valori ok, sì perché va a scalare ogni volta il valore di n che è t0 mentre va ad eseguire le altre operazioni per quanto riguarda t1, t2 e t3 come potete vedere a destra sta cambiando i valori sommandoli ogni volta infatti come ultimo risultato avremo 34,21 infatti poi subito dopo viene a chiamare l'uscita che è il numero 10 qua in A7 e significa che tutto sta andando per il verso giusto perfetto questo esercizio abbiamo introdotto principalmente il ciclo while che non è nient'altro che un richiamo dal jump che va a risaltare direttamente all'interno di questa sezione fino a quando la condizione non risulta vera ok, questo video è tutto non ho fatto un video molto lungo però comunque ho cercato di fare un esercizio insieme a voi magari se qualcuno ha bisogno di capire un po' in dettaglio magari vedere come si risolvono gli esercizi questo video è fatto apposta per voi ok, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di lasciare un like e commentare in caso avete dubbi e noi ci sentiamo al prossimo video ciao